Tartaruga Ninja della IDW, numero 19, scontro urbano, parte 2. Wabalabadabab e bentornati su Nomomamazzo, bentornati nella rubrica fumetti e nella rubrica Tartaruga Ninja, dove settimanalmente, con qualche pausa data dalle ferie, recensisco i fumetti dell'IDW, faccio un riassuntone più che altro perché sono abbastanza difficili da reperire, se non che adesso Lapanini ha fatto uscire il primo pizza box contenente le prime 12 storie in ristampa in formato deluxe, però in attesa del secondo pizza box, dove presumibilmente ci saranno le altre 12 storie, quindi si arriverà al numero 24, io continuo in perterrito la mia retrospettiva sui numeri che vi siete persi. Oggi siamo al numero 19 e appunto continua la trama dello scontro urbano. Ovviamente quando invece c'è l'uscita bimestrale consueta della serie in corso, parlerò di quelli, e ogni tanto parlo dei crossover, mi manca di parlare di quello di Ghostbusters. Prima di cominciare, se ancora non l'avete fatto, vi ricordo di iscrivervi al mio canale, di mettere un bel mi piace o un non mi piace a questo video e anche a tutti gli altri che vi frega di condividere il video con tutte le persone che hanno un guscio e di commentare qui sotto con quello che viene parso di questo episodio, di questo video, seguitemi anche sugli altri miei social, tra cui Instagram, Twitch e TikTok, su cui ogni tanto adesso ho iniziato a fare dei video brevi, non le farò sulla retrospettiva, però magari recupero almeno i numeri della serie regolare delle tartarughe ninja, dato che ho iniziato col numero 50 proprio su TikTok. Il numero, come spesso accade e spesso accadrà, è composto da due storie americane unite in un unico formato italiano. La prima storia è una, diciamo, una retrospettiva sulla vita di Vecchio Diavolo, sulle origini di Vecchio Diavolo che persino noi non conoscevamo, sono origini segrete appunto di quando lui era piccino, di quando lui era ancora un semplice gatto e scopriamo appunto adesso il suo lato umano. Scusate il gioco di parole anche se è un gatto, però scopriamo un po' cosa è successo nel passato di Vecchio Diavolo e cosa lo ha portato ad essere un gattaccio rognoso fondamentalmente e incazzato col mondo. Questa storia comunque, in un certo senso, è tutta narrata dal punto di vista di Vecchio Diavolo stesso che sta parlando a qualcuno. Questo qualcuno si rivelerà essere, alla fine dell'episodio, Slash nell'ombra, che avevamo già visto in un numero precedente, era stato salvato, ritrovato comunque da Vecchio Diavolo dopo lo scontro con Leonardo, lo scontro in cui Leonardo gli aveva fondamentalmente trafitto la spalla con la katana, non trafitto in questo senso, ma in questo senso, quindi con molta probabilità poteva essere morto, ma in realtà morto non lo era, lo avevamo già visto, e qua in un certo senso ci spiegano anche perché. Finalmente qua viene un attimino fatta distinzione tra Us e Mutageno, che cosa che io non ricordavo, fondamentalmente il mutageno è un agglomerato di ingredienti, un agglomerato di ingredienti che appunto porta alla mutazione. Uno di questi ingredienti è proprio l'Use, l'Use che fondamentalmente ha delle proprietà curative, proprietà guaritrici. Questo potrebbe spiegare molto meglio, più avanti, quello che succederà, mi riferisco a quello che succederà al padre di April, che provando solo Luz guarisce dalla sua, credo, paraplegia dovuta a un'ischemia, un ictus, non ricordo. E invece siccome Jennica non ha potuto essere curata da Luz, che è andato distrutto, ha subito una trasfusione del sangue di Leonardo, che contiene sì Luz, ma contiene anche appunto il suo DNA, ed invece è stata mutata. Questo potrebbe anche spiegare come mai il mutageno che vediamo nelle prime storie è quello dalle storie del 1984, cioè che trasforma gli animali in esseri antropomorfi, e come invece magari un mutageno diverso, sempre con l'ingrediente Use, ma con altri ingredienti che ne modificano le capacità, con quel mutageno siano riusciti a mutare umani come Bebop e Rocksteady. Questo lo dico perché in questo numero è evidente che il mutageno verde sia quello dei fumetti e quello del film, perché Vecchio Diavolo aveva in bocca una tartaruga quando è stato contaminato dal mutageno e soprattutto è stato azzannato all'occhio da Splinter. Quindi se fosse stato il mutageno dei cartoni animati, quello che ti trasforma nell'essere, nell'animale, nell'ultimo animale con cui sei stato a contatto, Vecchio Diavolo doveva trasformarsi in un mix tra una tartaruga e un rato, o più semplicemente in un ratto. E ovviamente non sarebbe diventato umanoide, no? E quindi va da sé che questo mutageno è quello invece dei fumetti che semplicemente antroporformizza gli animali. Una storia molto bella che ci mostra come Vecchio Diavolo non nasca come randaggio, ma nasca in cattività con un bambino che si chiamava Billy o Danny, non è importante, che lo amava tanto, ma la classica storia di un bambino che ama un animale ma non se ne cura più di tanto viene sgridato dai genitori che si sbarazzano dell'animale. Quindi da questo punto di vista la fiducia del gatto Vecchio Diavolo viene tradita, una fiducia verso gli umani, inizia a diventare un randaggio a procacciarsi il cibo finché appunto non si imbatte nelle tartarughe, proprio mentre subirono la mutazione, mentre subirono il contatto con il mutageno, con il mutageno. Vecchio Diavolo ormai dopo questo racconto del suo passato e la sua esperienza con Baxter Stockman e con tutti gli umani che ha avuto al servizio come suoi sgherri durante la ricerca di Splinter e delle tartarughe, è arrivato a una conclusione molto Malcolm X, molto raziale, molto magneto se vogliamo citare gli X-Men di come il problema per lui sia fondamentalmente la specie. Lui non si fida più degli umani, lui si dichiara superiore agli umani, lui sa che i mutanti sono migliori, sono più furbi degli umani, un esercito di animali mutati potrebbe facilmente battere l'umanità ed è quello che lui si prefigge di fare già da questo numero e quindi seppellisce l'ascia di guerra verso le tartarughe, che comunque è un po' disprezza, quindi non ci sarà mai una totale alleanza, anche perché hanno degli ideali molto diversi, ma propone una tregua, diciamo, alle tartarughe ninja e al clan amato, quindi anche a Splinter, per poter ritrovare Leonardo che è stato rapito nella scorsa avventura. E questo porterà all'inizio di una delle tante alleanze precarie tra Vecchio Diavolo e il clan amato perché hanno interessi in comune verso i mutanti. È una cosa molto interessante che rende Vecchio Diavolo un personaggio già più interessante rispetto a prima che a me stava abbastanza antipatico. Quindi questa storia di origine di Vecchio Diavolo è comunque legata, in un certo senso, alla storia principale che vede appunto il rapimento di Leonardo da parte del clan del piede perché Shredder, non si sa perché, non vuole la sua nipote Karai come sua seconda in comando, ma vuole Leonardo. Non si sa perché, non si sa perché lo considera bravo o perché semplicemente vuole fare uno sfregio all'antico rivale Amato Yoshi facendo lavaggio del cervello al suo primo genito, forse per quello più probabilmente. Fatto sta che la seconda storia ci mostra in parallelo anche dal punto di vista grafico con una notevole cura per la narrazione, una cosa che mi è piaciuta molto. La lotta tra la vita e la morte di Casey Jones, che era stato pugnalato nel numero precedente, e la lotta di Leonardo, la lotta mentale di Leonardo, che sta subendo il lavaggio del cervello da parte della strega Kitsune, che lo vuole portare appunto al clan del piede. E in questo lavaggio del cervello gli mostra come il maestro Splinter lo abbia sempre deluso, lo abbia sempre messo in pericolo, abbia sempre usato le chiacchiere, ma non le azioni, come lo abbia sempre trattenuto dall'uccidere, cosa che invece Shredder gli permette di fare per proteggere i suoi amati. Insomma, un sacco di cose che distorcono la realtà dei fatti per portare Leonardo dal lato del clan del piede. C'è anche tutto un fil rouge molto carino sulla bandana nera, questo non me lo ricordavo. Slash, che è stato fondamentalmente la prima uccisione accidentale di Leonardo, o almeno per quanto non sia Leonardo, Leonardo non sa che Slash è ancora vivo ed è convinto di averlo ucciso per sbaglio. Quindi Slash, che è stata la sua prima uccisione accidentale, aveva già una bandana nera che aveva indossato nella sua prima apparizione e si è strappata durante il primo scontro con Leonardo. Infatti si vede in una scena finale Leonardo che medita sulla sua spada, dove è legata appunto la bandana di Slash. Questo per rappresentare un pochino anche il fatto che è in lutto per la sua uccisione. Questa bandana va a ricollegarsi al fatto che sarà poi la bandana di Leonardo che indosserà per dimostrare che è un Leonardo diverso, più cupo, più nero, ma è un Leonardo che uccide, tenendo appunto fede a questa bandana nera che è stata strappata a Slash. Poi più avanti vedremo, ve lo anticipo già perché sono storie vecchie, che quando Leonardo rinsavirà, regalerà di nuovo la sua bandana nera a Slash. C'è questo appunto per sancire un po', per chiudere il cerchio di questa fantomatica bandana nera che ha accompagnato entrambe le tartarughe. Un dettaglio molto carino che mi ero dimenticato e che vale la pena ricordare. Fatemi sapere voi cosa ne pensate di queste due storie, fatemi sapere se l'avete lette o se aspettate il secondo pizza box per recuperarle, io ve lo consiglio caldamente. Io come sempre vi ringrazio per avermi seguito fino alla fine. Con l'inchino e con l'imbuto vi saluto e vi dico arrivederci al prossimo video. Grazie. 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 Grazie.